C'era una volta, c'era una volta un re, diranno i miei piccoli follower, e invece no, avete sbagliato, c'era una volta un canale YouTube che si chiamava No Mamamazzo. Bentornati su No Mamamazzo, sono oggi a parlare di Pinocchio, film del 2019, diretto e scritto da Matteo Garrone, scritto anche insieme a Massimo Ceccherini. Che dire, sono davvero contento che un'opera italiana così famosa come Pinocchio, famosa al punto che persino la Disney in passato ci aveva fatto una delle sue tante trasposizioni di cui fa parte dei classici Disney, seppure si discosta parecchio dal libro di Carlo Collodi. Poi essere fatta un'altra versione, magari molto più cara alle persone tra i 30 e i 40 anni, che era la versione in cui Nino Manfredi faceva Mastro Geppetto, che era più che un film, era uno sceneggiato tv, comunque con un bambino di legno che si muoveva, quindi già allora era un'opera favolosa. Gli effetti speciali per l'epoca erano fantastici, io adoro quella versione. Poi c'è stata un'altra versione nostrana di Roberto Benigni, che ha fatto con gli incassi, con il guadagno di La vita è bella, ha pensato di portare sullo schermo il suo film dei sogni, che era appunto Pinocchio, però non è stato apprezzato perché Roberto Benigni ha voluto interpretare, come spesso fa nei suoi film, il protagonista, solo che in questo caso il protagonista era un bambino di legno e il bambino di legno era interpretato da Roberto Benigni, quindi può avere un senso per noi magari in Italia che sappiamo che è Roberto Benigni, ma nel resto del mondo chiaramente vedere un cinquantenne che interpreta un ragazzino per giunta di legno senza avere nemmeno il trucco di legno è un po' strano, cosa che poteva avere il trucco di legno, ma si sa come ha fatto Roberto Benigni. Oltre alla sua moglie barra attrice feticcio che era Nicoletta Braschi, che come sempre quando partecipa nei film con Benigni si dimentica come si recita, di conseguenza tutta questa cosa qui non ha generato proprio un gran successo del film, nonostante fosse abbastanza fedele all'originale, infatti tanti dicono che in America non è piaciuto perché loro si aspettavano la versione disneyana di Pinocchio, e no, quella più reale comunque è quella di Benigni. Parlando di un'opera reale che non sia appunto il feticcio di un regista, è l'opera attuale di Matteo Garrone che per me, che appunto ho letto il libro, anzi non è che ho letto il libro, me l'ho lesse mio padre quando ero piccolo, quindi conosco comunque il romanzo, sono stato felice nel vedere che è stato trasposto fedelmente tutto quello che c'è scritto nel romanzo, tutti i piccoli dettagli, tutte queste cose qua, mi sono piaciuti davvero tanto, e il film mi ha dato un certo, una certa emozione, fino però al primo tempo. Perché questo? Perché ci sono delle piccole cose che mi hanno fatto dire, cavoli, questo è proprio un bel film con dei begli effetti speciali che può prendere, uscire dall'Italia, andare nel mondo e dire, ah cazzo, questo è il vero Pinocchio, fanno vedere mentre Geppetto scolpisce il pezzo di legno, che il pezzo di legno ha un cuore che batte, quindi quello dice, cavoli, questa è una cosa che non c'era nel libro, quantomeno non si può visualizzare nel libro come è stata resa, ed è stato molto bello. Poi però appunto nel secondo tempo il tutto prende una piega quasi documentaristica, nel senso che continua a venire trasposto fedelmente tutto quello che c'è nel libro, e anche se è un libro così, vi assicuro che metterlo su un unico film c'è tanta tanta carne al fuoco, quindi o si taglia o se si mette tutto si rischia di dare poca personalità al film, che è appunto la critica maggiore che questo film ha ricevuto. Ve ne leggo una che condivido tra le varie critiche, che è quella di Panorama. Allora, una trasposizione fatta col cuore che manca però di verba e grandi emozioni, cosa che condivido per quanto mi sia piaciuto vedere tutti questi dettagli portati sullo schermo, magari ci si è dimenticati un attimino di una firma registica, e si è perso un attimino anche il significato profondo di questa favola, proprio perché appunto, per dirne una, tanto non spoilero nulla perché presumo, spero che conosciate la storia di Pinocchio, se non la conoscete è uscita un po' di annetti fa, quindi se non volete sapere nulla fermate un attimo il video, ma adesso parlo di quello che c'è nel romanzo che poi anche quello che c'è nel film. Quando c'è il momento in cui Pinocchio incontra Lucignolo, non è sottolineato più di tanto dalla regia, ci sono molti campi medi, come se la telecamera fosse piazzata lì e la storia avvenesse, avvenisse? Avvenesse, non so, si vede che c'era gente avvenente, che la storia avvenisse mentre noi spettatori guardiamo, ma per esempio non ci sono, ma banalmente anche dei primi piani che mostrano che quello è Lucignolo, che Lucignolo non è cattivo, però diciamo che la sua mancanza di voler studiare, il suo essere una cattiva compagnia per Pinocchio lo possa portare sulla cattiva strada. Tutto questo non è sottolineato dalla regia, è semplicemente messo lì, e noi che lo sappiamo, ipotizziamo che quello possa essere Lucignolo, ma non è sottolineato da nulla, né da un vestito leggermente diverso di lui rispetto agli altri, è tutto scorre, tutto molto scorrevole senza che ci siano dei picchi registici. Stessa cosa quando sono nel Paese dei Balocchi, che ecco l'unica pecca mi aspettavo, il Paese dei Balocchi un pochino più magico, un pochino più baloccoso, invece sembra una stalla piena di fieno, e di sì, ci sono dei giochi, ma poca roba, mi aspettavo anche proprio più vizi nel Paese dei Balocchi, invece non c'è nulla di che, c'è qualche spada di legno, qualche scudo, i bambini giocano, ma non viene data proprio enfasi al fatto che quei bambini sono lì perché sono scappati dai propri doveri di bambini bravi, di scolari, di persone che si impegnano nello studio per andare a preferire, diciamo, il gioco, quindi preferire i piaceri al dovere, perché il messaggio del libro è questo, che comunque bisogna perseguire comunque la conoscenza per diventare dei bambini veri, bisogna fare i bravi per diventare dei bambini veri, non bisogna sbatterse della scuola e andare a bighellonare in giro, cosa che se adesso è quasi scontato che si vada a scuola, quando hanno scritto Pinocchio comunque non è detto che un bambino andasse all'elementare. E comunque è un messaggio quantomeno attuale anche per gli adulti e ci mostra proprio il libro e anche il film che chi non studia, chi non va a scuola, chi passa tutto il tempo a oziare, a dare priorità al piacere piuttosto che al dovere, lentamente si trasforma in un asino, cosa che nel libro e nel film accade appunto letteralmente, ma nel film perde proprio di questo significato metaforico del fatto che si diventa asini, nel senso che si resta ignoranti, si diventa asini per tutta la vita. Nel film c'è la stessa trasformazione spaventosa che c'è nel libro, che c'è anche in altri film, ma priva di questo significato metaforico. C'è quasi una spiegazione tecnica per cui l'omino che tra virgolette rapisce i bambini, comunque istica i bambini a scappare dal proprio paese, dalla propria scuola per andare nel paese dei balocchi, lo fa perché la loro trasformazione in asini lo arricchisce, lo arricchisce proprio materialmente, perché poi lui questi asini se li rivende. E ci viene mostrato proprio questo aspetto, non tanto l'aspetto più profondo che il libro vuole dare. Parliamo appunto di Massimo Ceccherini anche come attore e anche di Roberto Benigni come attore. Innanzitutto mi ha fatto molto piacere, ma quella è stata sicuramente una mossa anche di marketing, che abbiano scelto Roberto Benigni per interpretare Geppetto. Dico di marketing perché quando questo film lo smerci all'estero, uno dice Pinocchio Benigni, dice ok, Benigni comunque ha fatto il suo Pinocchio, poi può essere piaciuto o no, diciamo quantomeno la curiosità di rivedere il film c'è, oltre al fatto che Benigni è il regista della Vita è Bella, eccetera, eccetera. Ha fatto un'interpretazione che mi è piaciuta molto, è riuscito a essere Benigni nel modo di recitare, ma contenuto, ed è riuscito a essere Geppetto. Siamo riusciti a simpatizzare per Geppetto, ad andare oltre il volto di Benigni, questa volta cosa che non siamo riusciti a fare nel Pinocchio di Benigni di qualche anno fa, e siamo proprio entrati nel ruolo dell'attore, che l'attore ha interpretato, quindi un Geppetto anche un po' pavido, che vuole stare nella ventre del pescecane, piuttosto che uscire a mare, perché non sa nuotare, eccetera, eccetera. Un Geppetto che cerca, con modi anche molto benigneschi, di raffazzolare un po' di lavoro, per poter mangiare, nella scena iniziale, che è stata forse la mia preferita, nelle scene in cui era presente Roberto Benigni, e poi appunto viene accolto da questo paese, dove tutti si conoscono molto calorosamente, gli viene offerta una zuppa con del formaggio e del pane. Mi è piaciuto sia perché è molto simile al libro, sia perché è stata interpretata in modo magistrale, con un po' di Benigni, quanto basta per dare questa personalità a questo Geppetto, senza appunto che si vedesse troppo Roberto Benigni. Mentre Massimo Ceccherini, per quanto riguarda la recitazione, sono stato appunto molto contento di vederlo fuori dal suo classico ruolo di spalla comico volgare di Leonardo Piraccioni, ci ha mostrato questo suo lato anche molto creativo, questo suo lato molto fantasy, se vogliamo, dal momento che comunque ha scritto, ha riscritto Pinocchio, perché comunque è quasi paro paro come al libro, però diciamo ha dato le dovute modifiche per farcelo stare in un film di due ore. Mi è piaciuto molto come ha interpretato la Volpe, mi è piaciuto molto anche come anche Rocco Papaleo, nonostante sia un attore di un certo livello, si sia diciamo fatto piccolo piccolo per il ruolo del gatto, metaforicamente non è che, per dare più spazio al ruolo della Volpe, limitandosi a quasi a ripetere tutto quello che diceva la Volpe. L'unica cosa, non mi è piaciuto molto il loro make-up, perché appunto è un film con un make-up o CGI, perché vi giuro che tuttora non sono sicuro se quello che ho visto sia solo trucco o ci sia anche della computer grafica, può darsi perché è comunque una produzione, oltre che italiana, anche francese e della Gran Bretagna, quindi l'hanno prodotto, sì, Italia, Francia e Gran Bretagna, quindi comunque è una produzione abbastanza importante, diciamo che si può permettere anche della computer grafica e si vedono dei risultati ottimi, però appunto talmente ottimi che non riesco a capire se sia solo make-up o computer grafica, mi riferisco al trucco di Pinocchio, mi riferisco al trucco della Lumaca, mi riferisco al trucco di tutti i vari personaggi antropomorfi che ci sono e non mi spiego perché il gatto e la Volpe invece abbiano un minimo trucco, un minimo make-up e sembrino ancora degli umani vestiti da carnevale, passatemi il termine, non che siano vestiti male, ma che rispetto a tutti gli altri personaggi antropomorfi siano molto più umanizzati, è vero che non rappresentano davvero il gatto e la Volpe, ma rappresentano la furbizia, l'astuzia, l'aspetto umano del volerti fregare, del volerti raggirare, però appunto sono un attimino discrepanti con tutto il resto, mi ha ricordato molto il make-up del Pinocchio di Benigni, quello con i fichi d'India, dove tutti però avevano questo livello di make-up, quindi lì ci poteva stare, qua mi sarei aspettato un pochino più di cammuffamento degli attori, ma ci può stare che sia dovuto al fatto che essendo Massimo Ceccherini uno degli sceneggiatori, che si volesse mostrare il suo volto e quindi c'è stata questa cosa, però vabbè, nulla di che, nulla di particolare. Invece è una cosa particolare che però vi giuro non dovrei rileggermi il libro perché non mi ricordo se nel libro succede, non ho capito perché la fata turchina senza un motivo apparente sia interpretata nella prima parte da una bambina che si diverte con Pinocchio, che gioca con Pinocchio, che ride scherza e nella seconda parte sia interpretata da un adulto. se per caso avete la memoria di Ferro o l'avete letto di recente e vi ricordate se c'è anche nel libro, scrivetemelo nei commenti, io in ogni caso appena un attimo me lo rileggo, però appunto non vorrei darvi un messaggio sbagliato del fatto che ah, boh, è una cosa strana, non dovevano farla, magari c'è nel libro, quindi per carità, però se non ci fosse nel libro fatemelo sapere che così continuo ad avere il dubbio su come mai abbiano fatto questa cosa. Ho anche pensato che magari la bambina a un certo punto delle riprese se ne fosse andata o che a un certo punto delle riprese Massimo Ceccherini, l'attrice che fa l'ha fatta turchina, avesse voluto e quindi può essere che abbia cambiato l'attrice, non lo so. Però, non lo so, mi ha un po' fatto storcere il naso questa cosa. Tutto il resto molto bello appunto è mancato un po' l'emozione nel finale. Succede tutto un attimino così troppo in fretta a un certo punto, sì, vabbè, diventa un ragazzo vero. Vabbè, ma che ci frega. È tutto molto, molto documentaristico, soprattutto nel secondo tempo. Bene, con questo è tutto. Fatemi sapere se a voi è piaciuto. Io gli potrei dare, io non do voti di solito, però non vorrei che passasse al messaggio sbagliato che non mi è piaciuto. Lo riguarderei volentieri, però, più per un discorso visivo che non per un messaggio che mi dà. Gli darei un 7, nel senso, poteva essere anche un 9, se l'emozione che portava era a livello degli effetti visivi, degli effetti speciali, della scenografia che era spettacolare. Fatemi sapere se per voi ha un valore diverso questo film se vi è entrato nel cuore, se vi è entrato solo negli occhi, fatemi sapere se avete letto il libro di Pinocchio e questo film vi ha riportato quando lo avete letto per la prima volta o se invece non ve ne frega niente, cioè nel senso non vi ha lasciato molto. Con questo è tutto, io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video. I had strings but now I'm free.